Entro mercoledì Dashaun Raidan sarà a disposizione di mister Michele Pazienza, domani Giorgio Perinetti accompagnato da Pierfrancesco Strano sarà a Venezia per limare gli ultimi dettagli di quella che ad oggi può essere considerata l'operazione più importante dell'era d'Agostino. L'attaccante olandese con un passato di Chelsea ed Ajax arriva all'ombra del partenio a titolo definitivo, un'autentico colpa d'effetto messa a segno dal numero 1 bianco-verde con il DG dei Lupi che ha sfruttato gli ottimi rapporti con Filippo Agomere e Antonelli di essere gli arancio-nero-verdi assicurandosi il calciatore che lo scorso anno ha stilato 11 gol con la maglia della Triestina. Per il pacchetto arretrato si aspetta l'evolversi della situazione a Talento, Patrick Ricci è l'obiettivo dei Lupi ormai da diverse settimane e nelle prossime 48 ore anche la situazione relativa al calciatore che due anni fa ha raggiunto la B con la maglia dell'Ecco potrebbe sbloccarsi. Il DS Luigi Condo sta lavorando lacrimente per portare il calciatore Scuola Torino alla corte di Michele Pazienza. Nel frattempo il difensore Paolo Frascatore rinnoverà il suo accordo con i bianco-verdi fino al 2026. Erasmo Mulè piace al Crotone che però segue anche Matteo Gilli. I pitagorici sarebbero disposti ad ingaggiare l'ex Trapani ma chiedendo al Lavellino di pagare parte dell'ingaggio.